E' stata questa campagna di comunicazione antitabagismo ed in particolar modo l'appellativo con cui l'attore Nino Trassica si rivolge ai fumatori a scatenare la reazione di un di Domenico Nucci, avvocato del Foro Aretino, che ha deciso di sporgere querela contro lo stesso attore testimonial della campagna ed il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Ho denunciato sia Trassica che il Capo del Governo, cioè Matteo Renzi, perché il committente, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con pubblicità e progresso, perché dà degli scemi ai fumatori. Io capisco il fatto che nel pacchetto possa esserci scritto tutto quello che vogliono, tra l'altro hanno ragione. Capisco che possono essere messe delle immagini che turbano e benissimo hanno ragione, però quello che non capisco è perché si debba offendere il fumatore. Io dico che quella pubblicità è progresso, cioè progresso per modo di dire che è offensiva, è viola l'articolo 575, terzo comma del Codice Penale, cioè è una diffamazione aggravata e quindi io chiedo che venga perseguito sia Trassica che appunto il Presidente del Consiglio dei Ministri per diffamazione aggravata. Inoltre ho chiesto, perché non ci ha depositato la denuncia, alla Procura della Repubblica ho chiesto il sequestro di quel materiale, ovvero questa pubblicità.